Tutto in discesa per i Golden State Warriors, 4-0 contro Portan, 4-0 contro i Jazz, non hanno avuto nessuna difficoltà ad accedere alle finali di conference, mentre dall'altra parte i San Antonio Spurs hanno combattuto per arrivare lì dove sono e per strana hanno perso dei pezzi importanti, Tony Parker e adesso l'infortunio di Leonard, che certamente non è così grave, ma potrebbe influenzare le sue performance. Questo fa sorgere due domande importanti. La prima domanda è, possono i San Antonio Spurs rendere la serie quantomeno interessante? Direi di sì se si presentano pronte le seconde linee, Jonathan Simmons, Murray, e se si presenta da subito nel palazzetto la Marcus Aldridge, che abbiamo visto avere una partenza un po' lenta in questi play-off e non sempre incisiva. La seconda domanda è, sono io più fico di Max Keller, ma non è quello, certamente sì. Il mio pronostico direi 4-1 o 4-2, se le cose vanno veramente bene, per i Golden State Warriors. Un saluto. Ciao a tutti gli amici di NBA Evolution, io sono il Doc Abbati e sono qui per fare l'analisi e dare un mio pronostico personale sulle Western Conference Finals. Western Conference Finals che vedranno opporsi i Golden State Warriors ai San Antonio Spurs. Che cosa dire? Intanto Golden State parte con i favori del pronostico, al di là del fatto di avere il fattore campo, che comunque anche nei play-off NBA ha una sua importanza. Arriva sana a questi Finals di Conference che è sempre molto importante, arriva riposata, arriva avendo fatto vedere una fluidità di gioco, una capacità di andare in transizione e una difesa che diciamo, secondo me mettono un po' di timori ai San Antonio Spurs, ma San Antonio Spurs che con Coach Popovic al timone difficilmente si daranno per sconfitti. Gli aghi della bilancia. Da una parte Draymond Green, che se riesce a non litigare con il mondo, a non fare a cazzotti con chiunque, a non dare botte, a essere un giocatore il più pulito possibile, può veramente diventare un rebus irrisolvibile sia per l'attacco che per la difesa di San Antonio. Dall'altra parte la caviglia di Leonard farà la differenza. Se è all'80% in su, possiamo avere una serie molto interessante, perché Leonard è uno, in questo momento, uno dei 4-5 migliori giocatori della Lega. Se invece la caviglia dovesse fare le bizze, impedirli di giocare, renderli meno fluidi i movimenti, io credo che, malgrado tutto, malgrado gli Anderson, malgrado i Marrem, malgrado i Simmons con Ginobili, anche con gli Aldridge e i Gasol, per carità, Aldridge ha fatto un finale di serie con Houston, incredibile, però diventa complicato reggere i ritmi che potranno tenere i Golden State Warriors, che non aspettano altro di vincere la battaglia a rimbalzo, di correre, andare in transizione, tirare da tre con i Thompson, con i Curry, con i Durant e anche attaccare il canestro, che è la novità di quest'anno. Pronostico per queste Finals, 4-2 Golden State, sperando soprattutto di avere finalmente una serie, ragazzi. Speriamo in una serie. Ciao a tutti. Eccoci qua, siamo arrivati alle finali della Western Conference, un saluto a tutti i fan dell'NBA e di NBA Evolution dalla sezione forlivese della pagina, periodo di finali della Western Conference. Gli Warriors ci sono arrivati dopo aver schiantato Utah in una serie che non ha praticamente mai avuto storia, mentre gli Spurs ci sono arrivati alla grande, nonostante le difficoltà dell'infortunio di Parker e poi l'infortunio di Leonard, sono riusciti a limitare Harden e gli esterni e il gioco dei Rockets e arrivare a queste finali. Finali che vedono due squadre con una filosofia contrapposta. I Warriors, anche se avendo giunto Durant, ormai non sono più pericolosi solo a Dalperimetro, ma anche nelle altre zone del campo, per cui ci si aspetta una grande battaglia sul campo. Sicuramente Popovic dovrà studiare parecchio perché è limitare giocatori talentuosi come Kerry, come Thompson, come Green, come Durant, se ne limiti uno, poi ne hai un altro dall'altra parte, quindi sicuramente non è facile per gli Spurs. Aldridge è sicuramente una superstar, l'ha dimostrato, però quando hai davanti Green a difendere sicuramente la storia sarà un po' più diversa, così come se provi a limitare Kerry e Thompson dal perimetro, cosa che possono provare a fare con Mills e Simmons per chiarità, però ci sarebbe sempre anche poi Kevin Durant da limitare, quindi sarà molto dura per gli Speroni. Io sinceramente vedo i Warriors, il mio pronostico vedi i Warriors in finale con un netto 4 a 1, che può suonare anche il rispettoso per gli Spurs e per tutti forse anche i tifosi della Palacanestro e della squadra texana, però in questo momento non vedo possibilità, non vedo come si possono fermare questi Warriors che vogliono a tutti i costi la loro vendetta dopo le finali persi in quel modo l'anno scorso. Per cui il mio pronostico è 4 a 1 Golden State, sia io che il qui presente Wally Serbia siamo d'accordo, per cui ciao a tutti. Finale Western Conference, a grandi linee andrà così. Come avrete capito, Ken sono i Golden State Warriors, il povero Ryuga sono gli Spurs, non vedo partita, ok? Che siamo a ovest, quindi sarà una serie terribile, si è dalla gara 7 con morte e ferite overtime, ma dai, siamo onesti, Golden State ha troppe armi rispetto a San Antonio. Poi Leonard sì ci sarà, ma chi ha giocato a basket sa che quell'infortunio non è grave, ma ti dà fastidio, ti dà fastidio. Poi anche nei contatti, a rimbalzo, sei sempre un po' attento. Per me è kawaii una, leggendaria la butta giù. Però vedo Golden State troppo superiore. Poi sono anni che la menano, che i Wally Spurs sono la loro nemesi e vedrete che Golden State giocherà molto più stimolata e più cazzuta rispetto al solito. Quindi il mio pronostico per le finali di Western Conference, Golden State 4, San Antonio, Spurs 1.